Grazie a tutti. La passione per le questioni difficili e per la voglia di trovare sempre soluzioni a momenti un pochettino complicati. Ovviamente anche l'amore per il mio paese e quindi la vicinanza con questa terra che è stata fra le più colpite da questa drammatica epidemia. In questi nostri approfondimenti noi diamo un po' voce anche a chi ci sta seguendo dalle pagine dei social. La prima domanda che verrebbe spontanea è ma questi vaccini A ci sono? B davvero ce la faremo entro giugno? I vaccini ci sono. Non ci sono nelle quantità che ci avevano promesso e quelle che tutti stavamo aspettando che fossero. Adesso ci saranno dei ritardi comprensibili. Ho sempre pensato che la produzione dei vaccini sarebbe stato forse il momento più complicato anche perché c'è una tale voglia, una tale ansia di vaccinazione che è comprensibile che tutto il mondo stia facendo una corsa e stia anche sgomitando per avere i vaccini subito. Quindi da questo punto di vista è una situazione fisiologica che andrà avanti ancora per qualche settimana e poi come sempre accade saremo inondati di vaccini, di dosi di vaccino per cui a quel punto la macchina entrare a pieno regime. Secondo me non vi sono ragioni per non pensare che per l'inizio dell'estate, ai primi settimane dell'estate tutta la popolazione della Lombardia possa essere vaccinata. Non ci sono, al di là della disponibilità del vaccino, non vedo altri ostacoli. Il tempo c'è, soprattutto se noi il tempo lo raddoppiamo perché si è abituati a lavorare dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Ma se tu organizzi anche dei turni, dalle 8 di sera alle 8 di mattina, ecco lì che invece di 3-4 mesi ce n'hai 6-7, 8. L'Inghilterra ha iniziato a vaccinare a metà dicembre, l'8 dicembre. Oggi ha già vaccinato 5 milioni di inglesi. Per fine febbraio pensa di vaccinare 15 milioni di inglesi. E noi che siamo meno bravi degli inglesi? Quindi priorità, come è già avvenuto, al personale sanitario. Poi seguiranno altre categorie, gli oltreottantenni e poi piano piano tutta la popolazione. Ma lei come si immagina queste operazioni di vaccinazione? Nel corso della conferenza stampa ha fatto cenno a utilizzare anche luoghi diversi, un po' inconsueti. Ci sarà un piano che stiamo già studiando, analizzando e dettagliando, che prevede l'utilizzo dei grandi spazi al coperto che esistono dappertutto, da Milano fino all'ultimo dei comuni più piccoli. Anche il comune più piccolo ha una palestra, un centro di raccolta, un centro anziani, dove insomma ci sono un po' di spazi. E quindi moduleremo questa campagna di vaccinazione massiccia sulla base di quelli che sono gli spazi. Ci saranno i padiglioni della Fiera di Milano, che hanno ovviamente diverse migliaia di metri quadri di spazio. Ci saranno palasport, palazzetti di vario genere, anche grandi. E poi ci saranno anche le palestre, ci saranno anche delle strutture magari più piccole di una palestra. Laddove ci verrà indicato dai diversi sindaci quello che secondo loro è lo spazio più adeguato. Noi non andiamo a prevaricare nessuno. Diamo le indicazioni, lavoriamo insieme a tutti, ci facciamo dare i pareri, le proposte. E poi facciamo la sintesi e diamo poi il via a quelle che sono le operazioni preliminari, che sono appunto gli spazi, attrezzare gli spazi, identificare il personale, formare il personale. E poi cominciare con l'attività, se ci sono i vaccini. Un'ultima cosa, ha fatto riferimento nel corso della conferenza stampa anche alla necessità di rivedere il quadro normativo, rendendolo più attuale, più rispondente alla situazione di emergenza che stiamo vivendo, soprattutto per i volontari di protezione civile. Ci sono 2-3 mila medici colleghi giovanissimi che stanno facendo il primo o il secondo anno di specializzazione. Qualsiasi tipo di specializzazione, sei medico, quindi una puntura la sai fare, soprattutto al deltoide. Un'anamnesi la devi fare e quindi devi fare quelle che sono le attività basilari per qualsiasi medico. E questi 2-3 mila, non so esattamente quanti siano gli specializzanti in medicina in Lombardia, ma sono già un numero imponente, ma debbono avere l'autorizzazione a lavorare per vaccinare per 2-3, 4-5 mesi e quindi interrompere l'attività di formazione per la loro specializzazione e poi poter riprendere dopo questo genere di studio. Poi abbiamo i medici di famiglia che devono essere messi nelle condizioni migliori e più ottimali per fare un lavoro gravoso. Abbiamo decine di medici e infermieri in pensione che debbono essere stimolati e incentivati a lavorare con noi per questa campagna di vaccinazione. Abbiamo 20 mila e passa volontari di protezione civile in questa regione che però debbono essere, si dice in gergo, attivati. Cioè se io sono un autista di un'azienda di trasporti municipale e sono volontari di protezione civile se io, il presidente della regione, l'assessore competente, lo chiamano per una campagna di vaccinazione loro devono essere autorizzati a lasciare il lavoro anche con il consenso del datore di lavoro e svolgere una, due, tre settimane come volontari di protezione civile senza perdere il lavoro e anche essere remunerato per quello che sta facendo. Per far questo ci vuole l'attivazione nazionale che o presuppone il mitico DPCM oppure può essere inserito in un decreto legge anche perché probabilmente il problema più importante che noi avremo in questa campagna di vaccinazione sarà la predisposizione del cosiddetto consenso informato che ognuno di noi dovrà compilare prima di essere vaccinato. Se l'immagina un anziano di 85-86 anni che deve compilare un documento di due, tre, quattro, cinque pagine dove gli chiedono qual è la tua pressione arteriosa ma per favore, semplifichiamo da quando in qua bisogna fare un documento così complicato allora se c'è un problema di privacy o di quello che è facciamo un decreto legge diciamo il consenso informato se lo fanno a casa prima di andare a farsi vaccinare quando vanno a farsi vaccinare firmano come succede per qualsiasi altra patologia bisogna semplificare dobbiamo vaccinare gli italiani e i lombardi non dobbiamo aumentare la burocrazia bene, parole condivisibili a tutti coloro che hanno seguito questo nostro approfondimento e che ringraziamo per essere stati con noi primo giorno di lavoro già abbiamo visto il vulcanico Bertolaso ha le idee chiarissime su come andrà a finire e noi speriamo che effettivamente i fatti confortino quanto abbiamo appena detto grazie per averci seguito continuate a farlo su lombardienotizie.online grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti